via andiamo partiti è in vantaggio di Elsa davanti a Jed Maid suscita King, King Moss qualcosino Golden Acclamation all'inizio della curva è in vantaggio King Moss davanti a Amico Di Marzia Golden Acclamation, Jed Maid, Portrash Air Angel, Little Richard, poco prima dell'ingresso in dirittura conduce King Moss davanti ad Amico Di Marzia Jed Maid e Golden Acclamation i cavalli entrano in dirittura con Amico Di Marzia in leggero vantaggio attaccato all'esterno da Golden Acclamation a centropista Air Angel con più all'esterno nebbia di latte in vantaggio Amico Di Marzia Davanti a Nebbia di Latte Golden Acclamation Portrash a centropista anche qualcosino si avvantaggia Amico Di Marzia Davanti a Nebbia di Latte Golden Acclamation e qualcosino in vantaggio Amico Di Marzia Davanti a qualcosino Nebbia di Latte Golden Acclamation una solo Amico Di Marzia una solo Amico Di Marzia Nicol Pinna a sette e novantasei che bella quota senza soffrire mai perché ha preso, è chiaro gli altri li abbiamo tutti sofferto invece perché alle spalle c'è Bagar ma ben battuti però magari si rimedia una coppiata oppure una trio con chi? Piero chi sono gli altri due? chi hai visto? secondo è qualcosino terzo è Nebbia di Latte quarto Golden Acclamation allora traduciamo i numeri 5 10 3 10 3 1